Sì, io lo stiamo a fare, ma se ce lo facciamo noi il video, chi se ne frega, andiamo a saltare, ciao ragazzi, è stato un piacere. Siete mai stati al Polo Nord? No. Polo Sud? Nel mezzo. Ma vi ci portiamo a noi. Il monte è bianco, dai, più o meno un po' di pinguini che ti faccio. Adesso puoi stagliare a fare una chiacchiera da fuori. Ciao Dani! Alza un po' il timbro, che c'è? La voce piccola piccola? Che fai? Come mai da queste parti? Per amore. Per amore di chi? Di che? Ah, è lui che ti ha portato a fare questa roba. No, in realtà doveva venire lui e io ti accompagno proprio. E con la scusa lo stai a fare pure te. Ma cosa stai a fare? Ah, non mi sembra una buona idea. Stai ferma un attimo. Non te lo vorrei, ferma. Non te lo vorrei di. Ma te manca un pezzo, è paraduto. E qua c'è scritto pure Danger. Non mi sembra un'idea proprio sana sana. No, scherzi a parte. T'hanno fatto il briefing, t'hanno spiegato un po' tutto, come funziona l'aereo, la posizione in uscita. Vediamo se sei preparata. Qual è la cosa più importante per la tua sicurezza? Stare a cercare di chiacchiera da fuori. Secondo tentativo, dopodiché ti lascio a terra. Le gambe. Serve una cosa della quale tu sei super dotata. Dai che ti suggerisco. Brava! Ricordi, grande sorriso in aria e testa soprattutto alta, perché se guardi giù, io sono di fronte a te, diviene solo la nuca. Ok? Vuoi dedicare il lancio a qualcuno? Ce lo godiamo a noi? Dai mio 5, ci vediamo su. Grande! Guarda che soccorini. Buon bocetto. Da diabete ragazzi, mamma mia. L'ultimo prima del lancio. L'ultimo prima che si lascia. Ma ci vuoi provare tu con Antonello? Ti arriva sto Antonello, ma sto portando Daniele e ti arriva sto Antonello. Guarda che è un bell'uomo, guarda il barbuto. Guarda che è un bell'uomo. Guarda che è un bell'uomo, guarda che è un bell'uomo, guarda che è un bell'uomo. Guarda che è un bell'uomo, guarda che è un bell'uomo. The secrets that you keep are ever ready. Are you ready? I'm finished makin' sense. Cul cherry che gli ignorano. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti